quanto costava una spada nel medioevo ve lo dico subito tanto non mi interessa di temporeggiare per arrivare in fondo al video e darvi l'informazione no così come fanno quei canali orribili 1387 per una grande spada comprata per il principe d'acai ovvero un'antica regione della grecia medievale un fiorino e nove denari grossi ecco qua questa è la risposta e voi direte lorenzo ma non ci faccio niente con questa risposta che vuol dire un fiorino quant'è quanti euro sono oggigiorno quanti euro sarebbero e mi dispiace ma non si può non funziona così perché qualcuno potrebbe dirvi che più o meno un fiorino nel 300 valeva 150 euro e voi potreste pensare ah vabbè 150 euro e ne guadagno 1200 allora 150 vabbè sono comunque una spesa chiunque può no non funziona così perché nel medioevo il potere d'acquisto di questi 150 euro era completamente diverso le merci avevano valori completamente diversi da oggi gli stipendi i salari erano completamente diversi non funziona vi faccio un esempio vi faccio un esempio nel 1353 informazione presa dal sergio tonietti prezzi e salari nella firenze tardo medievale 100 uova valevano 20 soldi ovvero una lira una lira era il sistema di monetazione che si inventarono nel medioevo perché fondamentalmente non ci capivano niente neanche loro in che senso nel senso che ogni città importante poteva abbattere moneta poteva coniare moneta per conto proprio e così avveniva quasi il fiorino il ducato il grosso veneziano lo scudo e poi un'infinita variante di tutte queste monete il loro cambiare nel corso del tempo prima d'oro poi d'argento poi di nuovo le rifanno d'oro in tutto questo caos che tra l'altro serviva ad arricchire i banchieri che scambiavano le monete e ci prendevano gli interessi per ogni scambio come oggi uguale era così che si arricchivano i banchieri di firenze in tutto questo caos la gente comune aveva bisogno di capirci qualcosa perciò originariamente si pensò una lira uguale una libra d'argento fatto il fiorino quanto valeva beh più o meno un fiorino valeva una libra d'argento quindi un fiorino uguale una lira non fa una piega inizialmente perché dopo e già nel 300 non era più così il fiorino aumentò di valore anche perché era cognato d'oro 24 carati e quindi un fiorino nel 1350 più o meno già valeva 3 lire quindi il suo valore era triplicato rispetto all'inizio ma ancora non vi ho spiegato niente ancora non si capisce niente quindi per capirci qualcosa proviamo a vedere quanto guadagnava un abitante d'epoca medievale prendiamo il più scarso il più umile un bracciante agricolo il peggio del peggio prima della peste quando ancora magari non poteva far leva sul fatto che i vari braccianti agricoli erano morti e quindi lui era l'unico rimasto e allora valeva di più prima della peste 1353 un bracciante agricolo guadagnava 3 soldi per giornata lavorativa e voi allora cominciate a fare i conti ok 3 soldi 7 giorni di lavoro equivalgono più o meno a 20 soldi ovvero 100 uova e bene poi in 70 giorni di lavoro più o meno fa 10 lire e con 10 lire ci compra un bovino una vacca perché un bovino valeva 10 lire nel 1353 non funziona così mi dispiace è pieno di problemi questo il video di oggi è pieno di problemi perché perché il bracciante agricolo non lavorava tutti i giorni dell'anno vabbè ovviamente mi direte voi lorenzo ovviamente le domeniche le togliamo no non dovete togliere soltanto le domeniche dovete togliere anche praticamente tutto l'autunno e tutto l'inverno come eh sì perché il bracciante agricolo nella stragrande maggioranza dei casi lavorava a primavera e in estate quando si richiedeva la forza di tante braccia per fare la mietitura e tutte le grandi operazioni agricole e quando il campo non c'era niente da fare tutti questi braccianti agricoli stavano a casa ecco perché non ha senso quello l'equivalenza in euro perché gli stipendi venivano elargiti solo quando si lavorava non è come oggi che il lavoro ce l'abbiamo tutto l'anno e anche quello stagionale oggi viene pagato per intero quindi se uno ha un lavoro stagionale oggigiorno di quattro mesi quattro mesi gli verranno pagati e non era così nel medioevo se lui di quei quattro mesi di lavoro ne lavorava soltanto due veniva pagato per due ma magari era lì presente però lavorava effettivamente due ecco perché tornando a quel fiorino e nove denari il costo ovvero di una grande spada per un principe per un signore importante quindi non una spada qualsiasi beh quel fiorino è una certa somma abbastanza elevata questo significa forse che la spada era un bene di lusso la spada era forse quel simbolo di cavalleria che solo i membri della casta guerriera più importanti e ricchi e valorosi potevano portare gli altri poveracci neanche potevano avvicinarsi perché non potevano permettersi nemmeno di comprarla no assolutamente no la spada era un'arma e io direi quasi tutti in ogni caso quasi tutti i soldati di mestiere potevano comprarsela così come potevano comprarsi un'armatura magari il cavallo da guerra quello si era difficile da comprare perché perché un corsiere da guerra ovvero un destriero ottimo eccellente di gran valore costava 160 fiorini quindi 160 volte il valore della spada di quel principe anche questo valore preso dal dal trattato dei luigi cibrario potete leggere un sacco di informazioni del genere capito che differenza tra il destriero e la spada ora si può comprare destrieri magari un po meno costosi certo ci sono anche destrieri da 70 fiorini però un fiorino 70 fiorini il bracciato agricolo 3 soldi al giorno ovvero deve lavorare 7 giorni per poter guadagnare una lira ovvero un terzo del valore di un fiorino ma arriviamo al concetto perché questi discorsi sono davvero complicati faccio fatica anch'io a spiegarli perché ci bisognerebbe essere non so bisogna ci vorrebbe un corso di laurea per la storia della monetazione medievale è davvero l'aspetto più difficile che che io abbia incontrato per scrivere il romanzo davvero il più difficile di tutti e alla fine le scene dove ci sono si parla di monete sono anche pochissime questo 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 fa veramente capire quanto lo scrivere di storie inventarsi storie racconti sia una materia omnicomprensiva cioè bisogna sapere tutto bisogna essere economi medievali medievisti storici geografi grammatici bisogna essere scienziati astronomi di tutto non le conoscenze non bastano mai per scrivere un romanzo ma vi lascio con una cosa interessante perché che ve ne frega a voi di scrivere romanzi nel 1290 paga di un cliente o fante con lancia o spada nel castello di bricherasio 12 denari al giorno bricherasio non credo esista più un castello laggiù siamo forse in piemonte o lombardia non lo so magari in rovina in ogni caso in quel castello lì un fante armato di lancia o spada non è non è importante lancia spada valgono uguali valgono 12 denari al giorno e questi fanti con la spada da 12 denari al giorno potevano permettersela ce l'avevano è scritto qui in questo stralcio di di stipendio del 1290 di un mercenario di un soldato di mestiere che faceva la guardia nei castelli come si vede nei film no ve ne dico un'altra interessante l'ultima nel 1461 100 balestrieri partirono per cipro sulla nave san maurizio a 28 fiorini per ciascuno al mese quindi più o meno un fiorino al giorno questi balestrieri erano delle unità specializzate molto importanti e molto costose un fiorino al giorno e come erano equipaggiati ciascun balestriere aveva celata ovvero l'elmo quell'elmo all'italiana aperto qua no classico che a volte aveva anche la visiera una brigantina ovvero una specie di corazza con le placche di metallo mobili sul lato interno del cuoio quindi da fuori si vedrebbe una corazza di cuoio con i ribattini d'acciaio che tengono ferme le placche all'interno spada qualche volta pugnale o daga e talora invece della balestra avevano una carabina quindi questi balestrieri nel 1461 qualcuno di loro aveva anche una carabina ovvero un fucile medievale un po corto che secondo me costava anche più di una spada perché sono le prime armi da fuoco portatili queste e già da qui si vede come erano importanti questi mercenari perciò a parte tutte le le nozioni e difficili riguardo le monete il cambio una lira equivale a 20 soldi che un soldo equivale equivale a 12 denari però questo sistema di monetazione non era non era la monetazione reale era una monetazione di conto perché in realtà c'erano la monetazione reale era il fiorino il ducato è ecco tutto questo mettiamolo da parte arriviamo al concetto che è quello che serve a me e immagino che serve anche a voi perché non siete qui per studiare storia dell'economia no una spada non era questo è il mito no il mito della spada come oggetto simbolico della cavalleria oggetto di lusso oggetto di sovrani re soltanto in pochi potevano permettersi una spada eccetera eccetera non è vero non è assolutamente vero perché ogni soldato di mestiere io mi lancio in questa affermazione quasi tutti i soldati di mestiere potevano permettersi una spada quasi tutti e infatti abbiamo le nozioni di queste guardie di un castello sperduto una normalissima guardia del castello ci aveva la sua spada così come ce l'avevano anche i balistieri erano un'unità di elite però è uguale avevano ciascuno la spada al fianco perciò evitiamo sfatiamo questo mito della spada come oggetto di lusso che poi in realtà viene sfatato già nei film già nei romanzi perché da un lato la si tratta come oggetto di lusso leggendario costosissimo e poi la vediamo impugnata da chiunque dalle guardie dei castelli dei film la vediamo impugna i banditi la spada e allora decidetevi o costa tanto oppure tutti possono permettersela la realtà è questa ovvero sì un oggetto che tutti quelli di mestiere possono permettersi perché come oggigiorno quanto costa un'automobile no l'utilitaria più scarsa diecimila euro è lo stipendio medio diecimila euro te li fa guadagnare in un anno quindi se noi fossimo degli archeologi del 5000 dopo cristo quando andiamo a studiare la storia d'italia del 2022 ci rendiamo conto che in italia quasi un abitante su tre all'automobile ma come facevano per mettersi l'automobile costava 10 20 mila euro e loro ne guadagnavano 10 mila al mese come facevano quello che ci chiedemmo noi con la spada no nel medioevo come facevano risparmiavano facevano dei pre prendevano dei prestiti insomma in qualche modo o uccidevano qualcuno sul campo e gliela prendevano voi è così che avete preso la vostra automobile no avete ucciso qualcuno al semaforo e gliela avete presa va bene ognuno fa quel che vuole no perciò la spada non è un bene di lusso simbolico da venerare nelle teche ma veniva impugnata anche dai soldati comuni che con il loro stipendio faticosamente magari potevano riuscire a comprarsela grazie per essere stati con me ci vediamo al prossimo video ciao